Ipnos, esperimenti esoterici e magia per ottenere ciò che vuoi, esperimento pratico. Ti ricordo che su tutti i miei canali YouTube, Massimo Tramasco, crescita personale, felicità benessere, amore autostima, ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai ottenere, diciamo, qualcosa in più. Per abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, vicino tastino e iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma, ma, veniamo al tema Ipnos, magia ed insegnamenti esoterici per ottenere ciò che vuoi. Allora, che cos'è la magia? Che cosa sono gli esperimenti esoterici? Cos'è l'Ipnos? L'ipnosis? Allora, tu puoi entrare in uno stato di coscienza molto profondo che ti consentirà, attraverso la canalizzazione del tuo pensiero e la canalizzazione di entità, di ottenere ciò che vuoi, di ottenere, di raggiungere gli obiettivi che tu vuoi raggiungere. E questo è molto importante. Allora, quindi, è fondamentale entrare in uno stato di coscienza profondo, perché se tu riesci ad entrare dentro uno stato di coscienza profondo, uno stato di coscienza ipnotico, allora tu potrai ottenere dei risultati molto molto interessanti. Potrai riuscire a raggiungere dei risultati veramente importanti che ti consentiranno di riuscire a sintonizzarti su ciò che tu vuoi raggiungere. E questo è l'obiettivo che dobbiamo imparare a darci. Quindi, se tu vuoi raggiungere qualcosa, dovrai fare delle azioni, ma in prima istanza dovrai riuscire a creare dentro di te uno stato ipnotico, fondamentalmente, che ti consentirà di entrare in contatto con quella parte, quella parte molto profonda dentro di te che ti permette di ottenere tutti i risultati importantissimi della tua vita. Ti permetterà di raggiungere ciò che veramente pensavi impossibile poter ottenere. Questo è quello che tu devi imparare a fare, raggiungendo uno stato di coscienza profondo. E allora, se vuoi raggiungere questo stato di coscienza profondo, se vuoi ottenere ciò che è veramente importante, buono e giusto per te, vatti a sedere e siediti con la schiena eretta ma non tesa e ascolta il suono della mia voce. Rilassa le braccia, le mani, le spalle e chiudi dolcemente gli occhi. E mentre sei con gli occhi chiusi e ascolti il suono della mia voce, porta la tua attenzione sul tuo respiro e lasciati andare con gli occhi chiusi. Abbandonati completamente in uno stato ipnotico. Lascia che il rilassamento pervada la tua mente. Lascia che il rilassamento pervada il tuo corpo. Entra in uno stato di ipnosi sempre più profondo, sempre più profondo. E allora la magia inizierà a manifestarsi. Tu entrerai in contatto con tutto ciò che vibra nell'universo. Le vibrazioni dell'universo saranno le tue vibrazioni. Continua ad ascoltare il suono della mia voce. Lasciati andare sempre di più, sempre di più. E mentre ascolti il suono della mia voce e ti lascia andare sempre di più. Non so se qualcosa dentro di te inizia a trasformarsi. Forse tu la puoi percepire. Non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te sta cambiando. E via via che tutto questo succede e ti rilassi sempre di più, sempre di più. Focalizza la tua attenzione su ciò che vuoi raggiungere, sull'obiettivo che vuoi ottenere. Mentre sei in uno stato di rilassamento talmente profondo che anche se provi a muovere le mani, le braccia e le gambe, scopri di non riuscirci. Perché sei totalmente rilassato, rilassato, totalmente abbandonato. E continuo ad ascoltare il suono della mia voce a respirare. E la magia avverrà. La magia di poter produrre qualcosa di veramente importante per te. Qualcosa che possa essere veramente buono e giusto per te. Ciò che desideri lo ottieni. Ciò che desideri lo sei. Ciò che desideri lo raggiungi. Qui ed ora. Ascoltando il suono della mia voce e mettendo in atto tutte le azioni giuste e buone che tu puoi sviluppare, che tu puoi fare in questo stato di coscienza profondo dove il tuo corpo sprofonda sempre di più e la tua mente è sempre più libera. Sempre più libera e leggera. Sempre più leggera. e lascia alle tue spalle tutte le negatività che in qualche modo possono condizionare o condizionano la tua vita. E ti senti leggera, libera, rilassata. E adesso dentro di te quello che sta per succedere inevitabilmente accadrà. dando un colpo deciso a tutte le situazioni, a tutte le situazioni. Entra in uno stato di rilassamento profondo e libera la tua energia che va ad attirare a sé tutto ciò che è veramente buono e giusto. E tu hai la consapevolezza di aver ottenuto quello che veramente desideri, quello che veramente è buono e giusto e importante per te. Continua ad ascoltare il suono della mia voce. Continua ad ascoltare il suono della mia voce. E adesso che ti sei reso conto che tutto questo è avvenuto, puoi fare tre respiri profondi, ispirando l'aria, trattenendo alcuni istanti, ispirandola fuori e fino in fondo con la bocca. E al termine di questi tre respiri profondi potrai muovere le mani, le braccia e finalmente aprire dolcemente gli occhi. Sentirti bene, rilassata, rilassato, tranquillo, tranquilla. Consapevole di aver attirato nella tua vita ciò che è veramente buono e giusto per te. Bene, bene, allora iscriviti al canale e iscriviti a tutti i miei canali YouTube. Massimo Tremasco, crescita personale, felicità benessere, amore e autostima, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.